Si è tenuta nell'antisala dei baroni al Maschio Angioino la cerimonia di insediamento del neocostituito consolato del Nicaragua a Napoli. L'evento è stato organizzato dall'Osservatorio Comunale del Lavoro e della Sicurezza presieduto da Antonio Crocetta e si inserisce nelle attività previste dal protocollo d'intesa assiglato con il Corpo Consolare di Napoli. L'obiettivo è collaborare sui temi dello sviluppo della sicurezza sul lavoro e dell'accoglienza agli stranieri, presenti alla festa oltre al console Gerry Danesi e all'ambasciatrice del Nicaragua in Italia, il vice sindaco Tommaso Sodano e il presidente dell'Ordine degli Avvocati Napoletani. Al Maschio Angioino è allessita anche la mostra Illuminaciones promossa dall'Istituto Cervantes di Roma che evoca la parte rurale del Nicaragua valorizzando nella terra le tradizioni e la cultura locale.